Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. La vita personale e artistica di Albano è oggetto di grande interesse, in particolare riguardo alle due donne che l'hanno segnato in modo indelebile. Loredana Lecciso, sua compagna per 18 anni, e Romina Power, sua ex moglie, e compagna di palcoscenico, con la quale ha ripreso a collaborare dopo un intervallo di oltre due decenni. La convivenza attuale di Albano con Loredana sembra passare attraverso una fase di crisi, un turbamento che, secondo l'artista Salentina, sarebbe da attribuire all'ombra proiettata da Romina Power, vista come un'ex moglie troppo presente. Nonostante le accuse lanciate da Loredana verso la cantante italo-americana, Albano ha aggiunto un elemento di complessità alla situazione. Le parole del cantante pugliese potrebbero infatti alimentare le speranze di coloro che auspicano un riscaldamento sentimentale tra lui e Romina. Albano ha rivelato di non voler sposare Loredana, sostenendo che il matrimonio, in passato, non gli ha portato fortuna. Pertanto, sembra che le tanto attese nozze tra lui e Loredana non si svolgeranno. Albano, pur esprimendo grande gratitudine a Loredana per avergli donato due figli. Senza esitazione ha dichiarato che sua madre, Yolanda, resta la donna della sua vita, una donna irripetibile. In un gioco di parole musicali, se un vecchio successo di Eros Ramazzotti affermava, ti sposerò perché, per Albano, sembra più appropriato dire, non ti sposerò perché. E mentre la vita sentimentale di Albano si complica, la sua vita artistica continua a brillare. Per lui e Romina è giunto il momento di unirsi di nuovo, questa volta sul palcoscenico, con una serie di concerti in Germania, prima che Albano si prenda una pausa per dedicarsi a un nuovo progetto televisivo. I fan sono in fervore, e internet è in tumulto, colmi di aspettative per il concerto imminente. Mentre Albano e Romina torneranno presto a duettare. Loredana sembra orientata a dedicarsi alla sua più grande passione, il teatro. Così, mentre Albano e Loredana si allontanano sempre più, Romina Power, in un modo o nell'altro, rimane costantemente presente. Una figura indissolubilmente legata alla vita del cantante pugliese. Lascia un commento alla fine del video, facci sapere la tua opinione, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.